Allora, combattiamo un po' gli stereotipi. Vi è mai successo di cambiare idea su una città, una nazione dove siete stati? In Milano si possono comprare cose belle senza spendere troppo. Infatti io ho comprato delle belle scarpe per 30 euro. Caro Carlos, ti ascoltiamo. Sai che a Roma la cucina romana è molto varia, non c'è solo pasta. Ieri, per esempio, ho mangiato un piatto cinese. Ok, va bene. Daria, cosa rispondiamo? Davvero? Pensavo che a Roma fossero solo spaghetti alla carbonara. Molto bene. Grazie. 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 Grazie.